In questo 2021 ricorre l'ottavio centenario della morte di San Domenico, avvenuta qui a Bologna il 6 agosto 1221. In occasione di questo giubileo domenicano l'Associazione Arte e Fede della Chiesa di Bologna, insieme all'Ordine dei Predicatori, all'Istituto di Scienze Religiose Marvelli di Rimini, all'Associazione Succede solo a Bologna e altre collaborazioni, ha prodotto un video messo a disposizione di chiunque voglia conoscere San Domenico e l'immenso patrimonio di fede, di arte, di cultura che Bologna custodisce insieme alle sue spoglie mortali. Siamo perciò lieti di mettere a disposizione questo corso delle guide, degli accompagnatori e di tutti i turisti, di quanti sono interessati a fare di questo giubileo domenicano un'occasione per scoprire la figura di San Domenico ma anche per riscoprire la nostra città e capire come la presenza di Domenico non solo nel passato ma anche oggi è sorgente di una ricchezza culturale, spirituale, artistica che fa di Bologna una eccellenza nel mondo.